E' contrario alle norme emanate in continuazione dal Governo sull'utilizzo del certificato verde. Per questo l'Avvocato Matteo Giuliani, Presidente di Bene Comune, ha presentato le sue dimissioni dal Consiglio Comunale di Fano. Al suo posto farà ritorno nella CV Cassise Giovanni Fontana, tra i veterani del Movimento 5 Stelle e già consigliere comunale dal 2016 al 2019. Il certificato verde serve solo a costringere i cittadini che legittimamente non vogliono sottoporsi al trattamento sanitario, quindi a vaccinarsi. E impone a questi tutta una serie di limitazioni di diritti costituzionali fondamentali che invece agli altri, che pur anche loro possono infettarsi e infettare, non impone. Quindi si tratta di una discriminazione inammissibile che legge diritti fondamentali, a cominciare dal diritto principale che è il diritto al lavoro. Ricordo che la Costituzione recita che la Repubblica è fondata sul lavoro, non è fondata sulla salute, non è fondata sullo sviluppo economico, non è fondata sulla cultura, è fondata sul lavoro. Ecco però, perché questa decisione di dimettersi da consigliere comunale e non di lasciare semplicemente il Movimento 5 Stelle? Per svolgere la funzione di consigliere comunale occorre assoggettarsi e utilizzare il certificato della discriminazione. In questo modo, tra l'altro, si compie un'operazione molto pericolosa e molto grave perché si privano milioni di cittadini che stanno esercitando un diritto di avere rappresentanza democratica. Penso anche, ha aggiunto l'avvocato, che in futuro possa produrre conseguenze impreviste e nocive per l'unità del Paese. Giuliani poi ha detto la sua su chi chiede a qualcuno se sia vaccinato oppure no. Una domanda, secondo il consigliere dimissionario, che sta alla base del concetto di discriminazione. Io sono concorde con la risoluzione del Consiglio d'Europa, la 2361 del gennaio di quest'anno, che in piena seconda ondata della pandemia ha espressamente ammonito gli stati, ricordo che il Consiglio d'Europa è l'organo che i Paesi europei ci sono dati come organo di indirizzo in materia di tutela dei diritti umani, ha ammonito gli stati a chiarire ai propri cittadini che la vaccinazione non può essere obbligatoria, che i cittadini non possono essere condizionati in alcun modo, politicamente, socialmente, economicamente, a sottoporsi alla vaccinazione e che in base allo stato di vaccinazione o non vaccinazione non può essere adottata alcuna discriminazione fra i cittadini. Quindi non serve chiedere se un cittadino è vaccinato o non vaccinato, perché se rispondessi sì contribuisco alla discriminazione dei non vaccinati, se rispondessi no farei la stessa cosa.